Buongiorno, mi chiamo Michele Catenacci, sono direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Bologna e sono specialista in medicina fisica e riabilitazione. Riabilitazione vuol dire riabilitare un soggetto che ha avuto un problema o ortopedico o post chirurgico o un problema neurologico. Ritengo che il fisiatra deve essere considerato un medico che non opera, mentre l'ortopedico è un chirurgo. Mettiamo il caso di un paziente che abbia un dolore osteoarticolare, secondo il mio punto di vista non dovrebbe essere indirizzato ad un ortopedico perché non c'è l'indicazione chirurgica, mentre potrebbe essere curato molto bene dal fisiatra dal punto di vista generale, con farmaci, terapia fisica, riabilitazione e nel caso in cui si vedesse che c'è bisogno di un intervento sarà il fisiatra stesso ad indirizzare dall'ortopedico. Ritengo anche che il fisiatra abbia il dovere di avvalersi dell'ortopedico così come l'ortopedico dovrebbe avvalersi del fisiatra per ottenere un qualche cosa di unico sullo stesso paziente.